Per il fondatore e presidente di Slow Food Italia Carlo Petrini, Carlin, è un po' come il ritorno a casa in Valdarno dove la condotta dei colli superiori di Slow Food, questo modo sostenibile anche di alimentarsi, ha mosso i suoi primi passi davvero alcuni decenni fa, pioniere ad un percorso che poi è stato sposato da varie regioni d'Italia e da tanti paesi nel mondo. In Palazzo D'Arnolfo, questo venerdì 7 giugno alle 18.30, Petrini sarà l'ospite d'eccezione dell'iniziativa Le Piazze del Sapere e parlerà sul tema se le comunità sprecano il cibo. Presenti tra gli altri Gianni Gaggiani del social network Grow the Planet e il consigliere regionale Enzo Broggi che sarà il moderatore dell'incontro. Sì, riparte appunto questo venerdì la rassegna Le Piazze del Sapere, organizzata e promossa dalla Biblioteca Comunale di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Masaccio e Unicop Firenze e per questo evento speciale anche con Slow Food Colli Superiori del Valdarno. Abbiamo insomma l'onore di avere qui Carlo Petrini, Carlin Petrini, grazie appunto a Slow Food e quindi potremo assistere alla sua, non la chiamo conferenza, mi piace chiamarla conversazione come è stato negli altri casi appunto delle Piazze del Sapere in Palazzo D'Arnolfo. Questa conferenza che lui terrà, conversazione meglio ancora, seguirà poi una cena conviviale che si svolgerà ai saloni della Basilica dove si potranno gustare i prodotti tipici del nostro territorio e anche le ricette tipiche del nostro territorio, in primi se naturalmente a San Giovanni non poteva mancare lo stufato ma anche la Tarese che è uno dei presidi Slow Food del Valdarno, però c'è una cosa importante da dire che la cena comunque andrà a finanziare uno dei progetti della Fondazione della Biodiversità Mille Nord in Africa. San Giovanni peraltro ogni secondo sabato del mese ospita il Mercato della Terra in Viale Diez.